si salva questa è la recensione delle sketches respect di esmond numero 43 dark brown c'è anche il colore black shadow vede la scarpa ai lacci rispetto invece ad altri modelli che invece è qui ci sono i lacci finti e la calzatura e per lo più con la molla qui nella parte alta questo il modello stivaletto vede c'è la suola vedete antiscivolo goodyear qui abbiamo una parte in gomma di circa 3 centimetri nel punto più alto che circonda tutta la scarpa e poi il resto vedete tutto in vedete in perle idro repellente all'interno abbiamo la soletta vedete che in memory form che si può estrarre facilmente e vedete e sostiene anche l'arco plantare questa parte qui vedete goga matt arci il numero che ho preso è un 43 vedete mad in vietnam 28 cm corrisponde ad un una taglia stati uniti 10 indilterra 9 vedete 15 il materiale che perle sintetico all'interno è foderata nella parte anteriore abbiamo poi questo rinforzo in gomma sulla punta con la s di sketchers qui abbiamo l'insert sempre in perle sketchers il passante che permette di stringere bene la scarpa per quanto riguarda invece i passanti per i lacci vedete non ci sono i fori ma ci sono questi ganci in metallo vede qui sono diversi c'è questa ferretto a forma di triangolo qui invece abbiamo il foro e il laccio passa all'interno vedi c'è un solo paio di laccio all'interno della confezione in colore marrone il prezzo di circa 98 euro acquistate su amazon per quanto riguarda la misura io in questo quasi un 43 io avevo già altri modelli sketchers 43 e questo non risulta né troppo grande né troppo piccolo quindi mi consiglio di prendere la stessa taglia di goodyear ma scappa per la prettamente autunnale invernale qui se solta quindi leggera e morbida nonostante in pelle subito si adatta al piede e anche per chi soffre di problemi al tallone in questa parte qui vedete c'è un tacco ed è molto più morbida ed è qui per recensione di altri modelli sketchers potete vista del mio canale mi sembra di aver detto tutto alla prossima